A Orlando la solidarietà si esprime in maniera molto concreta. Centinaia di persone fanno la coda per donare il loro sangue ai feriti. La risposta agli appelli è stata talmente travolgente che OneBlood, l'organizzazione che si occupa della raccolta in Florida, ha chiesto ai donatori di ritornare nei prossimi giorni. Faccio quello che posso. In questo momento vuol dire donare il sangue a sostegno delle vittime, in nome di coloro che hanno perso la vita e per aiutare quelli che stanno lottando per vivere. Siamo qui per donare il sangue e speriamo di poter dare un po' di sollievo ai centri di raccolta, ma anche alle famiglie e alle vittime. Polemiche per le norme restrittive che impediscono agli omosessuali di donare sangue se hanno avuto rapporti negli ultimi 12 mesi. Una fonte dell'amministrazione di Orlando aveva annunciato un'eccezione a questa regola, ma OneBlood smentisce che vi siano cambiamenti nelle procedure.